Per un mercato sempre più concorrenziale e frammentato, TSS ha bisogno di un logo più riconoscibile e semplice, come i grandi loghi di tutte le maggiori TV Sins. TSS cambia il suo brand, ovvero il suo logo. Nuovi loghi, nuovi canali. E' il moto di TSS, che manda un brand semplice, ma che racchiude lo spirito di una televisione all'avanguardia. Telestudio Sims ha tutto il quadrato, simbolo dell'ordine imposto e dell'armonia, data dall'equilibrio di cui simbolo è certamente il quadrato. L'insieme di quei quadrati è di un rettangolo che racchiude il logo. Tutto questo dal 5 luglio del 2010. TSS, di tutto, di più.